Al contrario di quanto immagina la maggior parte di noi, il simbolo che si trova sulla tuta di Superman, non è una S e ha un preciso significato. La S che siamo abituati a vedere sul petto del supereroe per antonomasia, non è l'iniziale di Superman. Anzi, al contrario di quanto generalmente si crede, non è nemmeno una S. Qualche anno fa, il fumettista usa Geoff Jones, che disegna Superman dal 2006, ha spiegato infatti, che si tratta di un simbolo, è lo stemma di famiglia della casata di El sul pianeta Krypton, casata alla quale appartiene Call El, nome kryptoniano di Clark Kent, alter ego di Superman sulla Terra. Il logo rappresentato sulla tuta blu del supereroe, nella lingua del pianeta Krypton significa speranza. Nella pellicola, L'uomo d'acciaio, 2013, lo conferma lo stesso Superman, rispondendo alla richiesta della moglie Lois Lane, di avere spiegazioni sul simbolo che porta sul petto. L'uomo d'acciaio, l'uomo d'acciaio, l'uomo d'acciaio, l'uomo d'acciaio.